Vicenza, droga nascosta nel vano porto oggetti, 26enne tunisino in manette. I carabinieri hanno fermato il tunisino in violenza in città a seguito di un servizio di prevenzione. Il 26enne, mostratosi particolarmente agitato, ha attirato l'attenzione dei militari che hanno perquisito l'auto trovando all'interno del cruscotto, nascosti, 8 grammi di cocaina e oltre due eti di hashish confezionate in più dosi, pronte per essere smerciata. Il tunisino è stato arrestato e accompagnato alla casa circondariale mentre proseguono le indagini per individuare la provenienza delle sostanze e individuare i potenziali clienti.